La lettera d'amore. Zari è la babysitter di Junior, il suo vicino. Loro sono in biblioteca. Junior, cosa fai? Ah, sto scrivendo una lettera. Una lettera? Per chi? Per una ragazza. È una ragazza che mi piace molto. Allora è una lettera d'amore? È per una compagna di classe? No, lei è un'adolescente. Ah, sì? Anche io sono un'adolescente. Sì, lei è la mia vicina. Aspetta, è un'adolescente? È la tua vicina? Sì. Ho capito, lei è anche molto intelligente. Sì. Ah, Junior, tu ami me? Mi dispiace, ma sei troppo giovane. Cosa? No, io non amo te. Io amo la tua amica, Lily. Le puoi dare la mia lettera? Mi piace. Mi dispi... tu am... biblioteca. Quindi, io non amo te... Grazie a tutti